Ok, benvenuti tornati a questa quick Greenland and Arctic update. Recentemente abbiamo visto un'increase di neve e l'acqua in Greenland che è confermata la tendenza che ha visto nei ultimi 3 o 4 anni perché questi sono solo i signori di questo gruppo di Greenland e il cominciato per i cicli gravitazionali è il prossimo anno, nel 2024 è il cominciato di questo ciclo gravitazionale exattamente 230 anni dopo il ultimo anno che coincidono con l'alto minimo ma i cicli gravitazionali sono anche molto importanti e quindi nel anno che era il 1700 l'alto minimo era 1790, 230 anni fa 4 anni dopo è stato registrato come un anno quando il cominciato globale è iniziato ovviamente alcuni cicli sono più corti altri cicli più lunghi ovviamente i ultimi 3 anni sono solo una parte più corta perché 30 anni prima c'erano 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 ma questi cicli sono piccoli ovviamente i cicli che comincia l'anno prossimo anno è molto più grande quindi i signori che vediamo in Greenland in Greenland e in Arte sono solo ciò che succede dopo questi signi sono solo i primi ovviamente il South Pole e il Nord Pole sono tutti bene ma non è non è compare a quello che succede nei prossimi anni perché è già iniziato quindi non è ancora iniziato perché il primo principio è iniziato dal prossimo anno e poi è iniziato perché è solo ciò che sono solo ciò che abbiamo visto una tenda in Greenland dove questo anno in una periodo di Juni Mai quando si avessi si avessi esplodendo lì in Greenland e invece fino ad ora fino ad Juni 18 2023 questo anno vediamo una tenda di raggiungi e di ovviamente questi sono signi di una parte più più di riconosciare per raggiungere per raggiungere in Greiland e del il arctico che ricordano il marzo del 2023 il marzo del ultimo 65 anni ovviamente quando il ricord in 1958 ovviamente quindi può essere ancora più 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 in tempo perché per l'arctico la temperatura in 1988 può essere ancora più più in tempo questi sono in Greiland in Greiland abbiamo visto per ultimi anni per ultimi per ultimi anni abbiamo avuto un avuto 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 che avuto che si 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 un bambino è venuto, ma non è venuto ancora. Ovviamente, quando vedete questo, è anche prima della stagione. Questo è praticamente la stagione, ovviamente, quando vedete una bambina con il bambino, ha detto che il bambino che deve dare un bambino, è un signo che ha un bambino, e questi signi sono più o meno la stagione, ovviamente. Ci sono solo signi che ci sono solo un signo che ci saranno più freddo. Quindi, questi sono i primi signi, ovviamente, del Oceano, dell'Atlantico, che saranno più freddo, ma più tardi, e i primi signori dovrebbero essere il nord-pacifico, e ovviamente, quando siamo fuori del Nino, ovviamente, ci saranno più grande trend di calcio, e ci prende tempo, ma quando abbiamo sia il occhio Pacifico e l'Oceano dell'Atlantico, che saranno più freddo, e poi, magari, 20-26, o anche più tardi, perché l'Atlantico sarà più freddo, l'Atlantico sarà più freddo molto tardi, fino alla fine della decennia. E su queste cose ho studiato, ho cercato di analizzare, a fare un'esercizio di me stesso, non in un'esercizio, ma ho, più o meno, che si sono guardate a storici, non ho parlato di winters, di più o meno di winters, come un'esercizio di winters, dove c'è un'esercizio di più calcio ogni anno, ovviamente, i wintersi, i wintersi, che sono i wintersi, che sono i wintersi, che sono i wintersi, che sono i primi anni, ovviamente, che sono più piccoli, che lo scopriamo. E ovviamente, i wintersi, che sono più pobres, che sono più piccoli, che sono più piccoli. E mi parlo, che cosa spesso, sono i wintersi, i wintersi che succedono ogni 15-20-30 anni, ho parlato di ritorno di ritorno che ovviamente non succede ogni anno Gopo Akuni potrà vedere ritorno che sono molto più riusciti che quando siamo in un ciclo caldo ma quello che ho parlato è fare questa ricerca più o meno per capire l'exatto anno è impossibile per capire più o meno la riuscita di quando questo succede perché nel passato l'ultimo secolo il negativo Yoshibura, che era nel 1913 c'erano in grado di ritorno in nord America, in USA c'erano un hurricane in questo periodo c'erano in questo periodo e dopo questo sto parlando di grande scale non loco 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 il vento qualcosa che succede in molti paesi quindi non è un fenomeno local che succede è qualcosa che è molto più riuscita e poi dopo questo ciò loco 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 nel 1929 quindi se se ho fatto la matematica dovrebbe essere 16 anni penso 16 anni dopo ma in periodi di calcio loco 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 quindi dopo ciò c'erano c'erano come i freddi in USA un periodo in cui i winters erano meno e c'erano c'erano un periodo infatti dopo ciò ricordate il 1956 per l'Europa io ho guardato l'Europa ma penso ovviamente in altri paesi come Nord America penso che non parlo solo uno o due c'erano c'erano che affetta le nazioni e infatti l'epoca l'epoca era più 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 c'erano 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 Dopo l'inizio del 1980s, del 90s e del start del 90s è un periodo di calcio, gradualmente, e quindi abbiamo visto meno winter di ash, ma non significa che non ci vediamo un winter per 30 anni, io voglio dire, queste winter di record-breaking, sono molto rari di rispetto a stagione e stagione, ovviamente, alcuni winter sono piccoli rispetto a altre winter, infatti, nel periodo quando è stato calcio, dopo l'inizio del 90s, e nel 2000, ancora più, è stato un periodo che, a volte, a volte, ho visto alcuni winter che erano abbastanza calci, ma non ricord-breaking, parlando di queste ricord-breaking winter, che credo che saranno succedendo, perché nel 2016 e nel 2029, o più o meno, o più o meno, o più o meno, o più o meno il 31 anno, più o meno o meno, Nel momento, ovviamente, è non possibile, ma è riuscito, ma ovviamente, tutti sono nella carta, sono arrivano, perché siamo arrivati al prossimo anno, nel prossimo anno, questo gopola che è appena avuta, abbiamo visto quasi nulla, perché è appena avuta, 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 Quindi, più o meno, credo, basato su quello che ho studiato da persone che sono molto preparati, con molti anni di esperienza, come Davide Dilley, che ho pubblicato in italiano un video di 43 minuti, che ho pubblicato, con la traduzione in italiano, che è un professore, un professor, un ricerciatore, credo che sono i scienziati con la più esperienza del mondo, perché se 1 più 1 è 2, ovviamente, sto studiando questo tema di cicli, di calcio, di cose, di questo tipo, che, come il prossimo giulio, è 4 anni, ogni giorno, quindi, ogni giorno, quindi, se c'era un scienziatore che aveva più esperienza di Davide Dilley, che aveva più di 50 anni, io credo, che avevo 54 anni di esperienza in climatologia e meteorologia, ovviamente, io avrei saputo, ovviamente, se non avessi un scienziatore che aveva più esperienza, ovviamente, non c'è nessuno, non c'è nessuno, c'è nessuno, c'è nessuno, c'è nessuno, c'è nessuno, con esperienza, che avevano la verità del mondo, ma la persona che ha più esperienza è Davide Dilley, perché non conosco nessuno di altri, con tantissimi anni di esperienza, ovviamente, ovviamente, possiamo dire che Davide Dilley, tra gli 8 milioni di persone, su questo planeto, è meglio di sapere e predica queste cose, ovviamente, io ho capito da lui, quindi, è una verità di ripartimento, è molto buona, perché non è proprio perbole, perché non devi parlare di un uomo, non devi parlare di un uomo che dicevano che Davide Dilley è il più esperienza scientisti nel mondo del clima e meteorologi solo facendo la matematica se non avete conosciuto un altro con tanta esperienza si sbagliate si sbagliate si sbagliate la mente che è proprio quello che è ovviamente perché non hanno bisogno di dire si facendo la matematica ci sono molti scientisti con molti anni di esperienza ma il miglioro credo è lui ovviamente se preparate perché non abbiamo visto nulla come ho detto prima molto più di venti riconoscendo in Grecia e in Arte che sono both in Norte e in Norte sono fanno bene ma da ora sono solo aumentano per aumentare in l'acqua e in Grecia la stessa cosa ovviamente perché i recordi iniziano dal 1981 che in un momento geologico per la terra è quasi nulla perché il 1981 è troppo recente quindi ovviamente questo grumma è un grumma che dovrebbe vedere un grumma in winters come come abbiamo visto in 1800 quindi ovviamente è molto più per usher dopo molti anni è più 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 e più 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 Non c'è nessuno vivo che ha visto questi winters, perché nel 1950 e nel 1960 avranno questi winters in 5-6 anni, dopo questa decada. E dopo questo, David Dill ha detto che è diventato ancora più caldo. Per quanto riguarda questi winters, non posso capire, ma credo che in circa 20 anni avremo a vedere almeno due ricordi di winters. Sto dicendo a winters che succedono dopo un lungo tempo. Ci sono stati caldi in winters, con stati caldi in winters. Ovviamente, molto più caldi in winters. Questo è praticamente il concetto di un periodo di caldo. Non c'è più caldo, anche nel vero e con i anni. Ma cosa stiamo parlando? Ci sono i winters di ricordare, i winters di storico. Questi, ovviamente, non funzionano ogni anno, come ho detto prima. Io credo che in 25 anni, almeno due di loro stanno arrivando. Perché l'ultima, 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 l'ultima. Per il 2026, l'ultima, 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 l'ultima. Quindi, vediamo un altro tipo di caldo. Talmente, prima del 2030. Quindi, dal 2026, al 2030. Più o meno, ovviamente, l'ultima, l'ultima è impossibile. Io credo che ci vediamo. Poi, dopo, dato che il decreto dice che ci saranno più caldo di 50 anni e 60 anni. Io credo che, più o meno, l'ultima, l'ultima, l'ultima. Perché il Yosimura, nel 2035 è il prossimo Yosimura. Quindi, tra il 2034 e il 2036, più o meno, l'ultima, 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 l'ultima. Quindi, nel 1956, quando l'ultima è molto calda in Europa e l'ultima, l'ultima, l'ultima. L'ultima, 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 non è importante. Ma magari, due anni, l'ultima, l'ultima. Ma, inoltre, i tempi sono arrivati. Ma, inoltre, i tempi sono arrivati. Il tempo per sviluppare. Ma, queste cose sono arrivati. Perché ci siamo arrivati. Non anche questo. Perché, Dilley dice, il cycle è iniziato dal max. E, come ho detto prima. Quindi, preparate. Perché, molto più, è comico. Questi, che dicono che il calcio non è accettato, e il terra è diventato più calciato, o che il calcio di calcio non è accettato, o che non è accettato, il terra è accettato. E io ho detto, che ci sono state, che ci sono state, che non è ancora ancora iniziato. non è ancora ancora iniziato. Abbiamo visto 1-2%, magari. Quindi, la griglia, diciamo, la scena, la transizione, che sta succedendo, 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 in questo gruppo di calcio, che sta succedendo, che sta succedendo, in questo gruppo di calcio, che ci sono stati più, che si sono stati più, 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 più. e poi. Quindi, io ho, che il posto sia chiaro. E non credo la propaganda, perché, perché, questo tempo, è finito, perché, la griglia, quando, è un po' calcio, un po' calcio, è finito. Ora, siamo transizione, ora. Quindi, va diventare, molto più, in generale, i winters, progressivamente, più più, i winters. Quindi, ho, ho, vi, 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 dei massi Johalari. Quindi, questokmale, ciò, che era più, in seguito, aggiungeremo, ciò, ricordatevo, provertevo in delle scritte, però, stokateerti. Miicchi, che sei dovuto r Boydsee, lerini, e noi ci dovi e ci avviò dal prossimo. Grazie!